Come dirigenti si considerano i dirigenti? Come dirigenti a capire la direzione strategica e stare con il giusto livello di distacco affinché poi le persone valorizzino le loro competenze nel poter raggiungere l'obiettivo definito. Penso che non si debba programmare troppo la propria vita professionale, non ci si debba incastrare nel cercare di capire perché non si raggiungono le cose, non si fanno. La vita è fatta anche di occasioni, è fatta di eventi e della capacità e la possibilità di sapersi giocare al momento giusto le opportunità che si vengono a creare anche creando quelle opportunità. Penso che questo sia tipico di ogni manager, di saper guardare alla prospettiva senza incastrarsi o chiudersi troppo in se stesso e pensare al proprio sviluppo in modo assillante.